E' necessaria una fusione tra enti. Sono queste le parole del primo cittadino di Roscigno, Pino Palmieri, per fronteggiare le diverse criticità del territorio, tracciando un bilancio della sua amministrazione comunale. Cerchiamo di combattere e di sopravvivere. Ovvio che la rinascita non parte dai piccoli comuni. La rinascita parte se c'è un progetto complessivo per rilanciare i nostri territori. Io credo che i risultati sono davanti agli occhi di tutti. E' quello che ci consegna la storia. Sono paesi abbandonati, persone rassegnate. Oggi c'è l'annuncio di un po' di milioni d'euro che verranno destinati per comprare un po' di catrame, aggiustare un centinaio di metri a paese, di strada. Vabbè, però io non voglio passare come il polemico di turno. Benvenga, però credo che era più importante un'opera che avesse veramente fatto uscire i nostri territori dall'isolamento. Preferivo un'opera da 100 milioni. Forse era meglio incentivare quell'opera che si chiama Fondovalle, ferma da 20 anni al palo e che ultimamente è ripartita perché poi la burocrazia a suo tempo aveva boccato. Però, sai, investire un cento milioni invece di sperperarli comune per comune forse era meglio. Avremmo avuto una viabilità molto più importante e saremmo usciti effettivamente dall'isolamento. Anche se poi credo che il rilancio del nostro territorio non passa solo per la viabilità, ma per le iniziative imprenditoriali. Iniziative imprenditoriali dove puntualmente ogni anno vengono proposti progetti per fare impresa, però poi quando vai a fare i conti dopo cinque anni ti accorgi che l'occupazione è diminuita. Quindi vorrei capire che è in controtendenza. Più investi e più diminuisce l'occupazione. Quindi c'è qualcosa che non va. Ma non lo dico io, sono i dati. Io ripeto, la soluzione che vedo davanti a me in questi anni che sto amministrando il territorio è la fusione. La fusione tra enti come i nostri, così piccoli, in altri territori del nord e in altri territori dell'Italia ha permesso di poter usufruire del fondo di 60 milioni d'euro l'anno che lo Stato mette a disposizione per i comuni. Ha permesso di efficientare i servizi e di diminuire il costo del personale. Queste sono voci che credo che siano importanti per un'amministrazione. Però purtroppo vige la regola. È meglio essere sindaco di un piccolo comune e avere grandi difficoltà che mettersi assieme e avere un comune molto più grande e poter gestirlo in modo serio e aprire a un nuovo modo gestionale del territorio. Però vedo che non c'è grande affezione allo strumento della fusione. Quindi vedremo che cosa accadrà.